Ups, a tutti ragazzi e ragazze, come state? Oggi sono qui solo per voi, per il trigger numero 15 del calendario dell'avvento ASMR. Quindi se voi volete scoprire che trigger ho scelto, indossate un paio di cuffie o auricolari, stendetevi sul vostro letto e cercate di dormire, va bene? Il trigger di oggi è un trigger che io veramente adoro alla follia. Ed è quello delle bustine da te, quindi cominciamo subitissimo. Bellissimo. 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 Che bello. Bellissimo. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché ora vi lascio di qua il video di ieri, di qua una mia playlist e qua da qualche parte il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video vi vogliate. Quindi buonanotte, buonanotte, un bacio e noi ci vediamo domani, va bene?